bene cominciamo a gioca a pacman è il mio gioco preferito allora 50 punti 200 400 600 bene io so quello giallo che mangia il formaggio che buono il formaggio con la pizza e il prosciutto che fame ma mi mancano loro non riesco a scappare guarda che talento è diventato uno spiedino non l'ho mangiato ma tutte queste patatine ma come sono buone belle salate quasi finite la frutta che va sempre bene e mangio un altro supplè eccole che brillano e illuminano tutto è il frigorifero che bravi questi fantasmi e ho svuotato il frigo maria maria vai a fare la spesa che buono brava maria ha fatto subito la spesa non mi mangio tutta la calcolina col fame demo consiglio di peggio a te ti vediamo la cosa no finisco il frigo prima di me madonna ecco la torta che mi viene a pigliare pensavate sono grasso ma sono veloce e me mi avevo in fretta quando sei fatto di mangiare è arrivato il messaggio maria ha fatto la spesa ancora brava brava maria questi sono dei pescioletti delle ostriche buona l'ostrica e ho svuotato di nuovo il frigo ma che succede ma che non mi mangiano non credo ma che non mi mangiano sono bello grasso miam 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 ma che contenti che hai l'apete